Ciao a tutti amici e bentornati su The Legend of Zelda Breath of the Wild episodio 31 Nello scorso episodio siamo andati a fare visita al drago elementale Neldra Che ci ha droppato una squama con cui siamo riusciti a far rivivere appena la trovo Dovrebbe essere qui No non è qui Mi sono dimenticato dov'è E qui da qualche parte Tipo qui sul monte di Rane Mi sono dimenticato Qui esatto La fonte della saggezza Che è sempre ottimo utilizzare perché ci dà dei sacrare ci dà delle benedizioni Quest'oggi in questo episodio andremo a finire Volevo dire fare ho unito finire e fare Mi è uscito fanare A finire gli altri due draghi elementali Firedra e Oldra Finedra si chiama questa Filedra Controllo subito Si chiama Firodra Firodra Si sono nomi un po' strani Ora sono venuto qui perché in teoria qui dovrebbe uscire alle A mezzanotte Da questo lago qui Dovrebbe uscire Firodra Io Non ve l'ho detto Ho sbloccato off camera questa parte di mappa E in realtà sono già stato a contatto Con Firodra Perché ho già preso effettivamente una squama Che si dovrebbe trovare Non so dove Dov'è la squama di Firodra? Non è qui? Forse me la sto perdendo Ho già preso una squama Eccola qua Squama di Firodra Perché stavo arrivando qui Me lo sono trovato davanti E È successo Però vi farò vedere comunque oggi Come è possibile prendere una squama Per appunto completezza Adesso sto aspettando che esca In teoria dovrebbe uscire Nel giro di pochi secondi Sono le 23.40 Dopodiché andremo anche a prendere Il Il secondo drago Che in realtà è il terzo È l'ultimo drago elementale E poi Con questa quest dei draghi Abbiamo fatto Dovrebbe uscire ora eh Se i miei calcoli Sono esatti Sì sentite Eccolo Eccolo qua Possiamo fare una foto Mentre esce Ehm Scatta Eccola qua E ce la salviamo nel compendio Firodra Ora Dobbiamo andare qui sul ponte Che arma ho tra l'altro Utilizziamo la spada da cavaliere Perché dobbiamo aspettare che arrivi qui E recuperare La spada Ora qui Sul ponte Ilia Che dovrebbe essere anche Oltre a questi simpatici amichetti Dovrebbe essere il ponte che si vede nella scena iniziale Dovrebbe perché non lo so Non mi sono documentato Il ponte che si vede sulla scena iniziale Di Zelda Porco cane Si qua spawnano anche gli Yiga eh Quindi ecco State attenti Oh Non ci provare Ma come ha fatto malissimo Allora aspettate Prendiamo Un'arma Adeguata Ok Abbiamo utilizzato La nostra Yiga di Daruk Prendiamo le banane E anche la sua arma Katana Fendivento Questa ci può tornare molto utile Aspettate Cos'è che possiamo lasciare giù Questa qua che ormai è andata Dopodiché mangiamo anche qualcosa Perché Firodra se ci colpisce Beh ci fa molto male Posso mangiarla pure tutta tanto Ho della Carne Ancora da cuocere Ne è spawnato un altro vero? Oh mio dio Questi Yiga Non li sopporto ve lo giuro Vieni qua Perché sto utilizzando la torcia Per colpirlo? Che cavolo sto facendo? Non dovrebbero essercene degli altri Vi stavo dicendo Prima di essere interrotto Questo qui penso che sia Il ponte Che si vede nella scena iniziale Di The Legend of Zelda Breath of the Wild Eh scusate Twilight Princess Nel frattempo sconfiggiamo Un paio di Lizalfos eh Perché dobbiamo aspettare che Oh Non mi fa prendere la testa Dobbiamo aspettare che il drago Arrivi qui Eh l'energia della spada suprema Si sta esaurendo Ok Quindi dobbiamo prendere La katana Fendivento Mi sembra ottima Aspettiamo che arrivi Vedete sta arrivando di qua Ora lui ci attaccherà In realtà O almeno proverà ad attaccarci Noi possiamo difenderci Semplicemente schivando Potrei anche Mettere per precauzione Questo qui Gli orecchini contopazzi Che ci difendono dall'elettricità Perché appunto Lui è il drago elettrico Aspettiamo che arrivi qua In teoria dovrebbe creare Una corrente ascensionale Se no La creiamo noi Esatto Vedete Eccoci qua Allora Una volta arrivati qua State attenti Non dovete prendere L'elettricità Lo colpite Una volta In un punto a caso E guardate dove va La squama Che cade qua Ok Io adesso ne ho prese due Potevo anche Prenderne solamente una La prendiamo E poi ci teletrasportiamo Instant Perché se no Ci colpiscono Eccola qua Squama di Firodra E ora dobbiamo Andare Alla sua fonte Che è Questa qui Che non c'è ancora Uscita fuori La fonte di Firodra Dovrebbe essere Se non erro La fonte Della saggezza Sto Guardando in questo momento La fonte di Firodra Oddio Non riesco a trovarlo scritto Dovrebbe essere La fonte della saggezza Perché l'altro drago Ha la fonte della forza Allora Dobbiamo andare di qua L'ideale sarebbe Farla con il cavallo Questa strada qua Però È un po' È un po' Tortuosa Da fare con il cavallo Tra l'altro Piccolo Fatto No Link Non ti dovevi buttare Firodra Può spawnare Pure Non qui Ma qui Se non erro Può spawnare Pure in questo luogo Almeno l'ultima volta Nel Due episodi fa In realtà Quando siamo venuti Di qua Firodra Mi era spawnato Tipo in questo luogo Solo che io Non l'avevo attaccato Perché ecco Non avevo idea In realtà Di cosa fosse precisamente E quindi Non ho voluto Attaccarlo Ora Direi che Visto che il viaggio È un po' lungo Potrei fare un piccolo tagliettino E ci vediamo Direttamente Quando sono arrivato Alla Allora State attenti ragazzi Perché Pullula di Lizalfos Qui Che hanno Ovviamente Preso il posto Quindi Io a te Cercherò di schivarti E voglio andare Dritto dritto Dove devo andare Qui cosa c'è? 300 300 rupie Mi va bene Andiamo direttamente qua Devo per forza Affrontarlo Questo Vabbè No forse no Forse no Oh Quanto ve Veloce questo qui Allora facciamo una cosa Prendiamo Una bella Arma Tipo questa qui E Lo Facciamo fuori Per bene Ok Non è ancora morto Bastoncino del ghiaccio Questo qua di ghiaccio Forse È comodo Con Lo spadone reale Sì Non volevo utilizzare La furia di Urbosa Però è successo Quindi mi recupero Tutto quello che posso recuperare Anche da qui Perfetto Benvenuti Alla Fonte Ce l'ha detto? Fonte del coraggio Non della saggezza Della saggezza era la prima Quindi Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare come l'altra fonte Ovvero Metterci qua Recuperare La nostra squama Ne basta una E la buttiamo in acqua La via è aperta Ora puoi procedere Io con questa fonte Forse ci dovevo parlare No in realtà Se prego No Non posso farlo Perché non ho ancora I quattro emblemi Quindi facciamo Questo sacrario Shi Kuchofu Ok Che è Un'altra benedizione Se non erro Sì E dovrebbe essere Un'altra benedizione Lo facciamo Prendiamo gli oggetti Che ci da Anzi ci liberiamo Anche un posto Nell'inventario Tra le armi Dovrei andare Dal tizio dei corogu Per Ecco Fare qualcosa Qui in teoria Dovrebbe darci Un'arma Una delle armi Più forti del gioco La forca elettrica Perché è veloce Fa molto danno È un'ottima arma Ora Forca elettrica La possiamo già equipaggiare Sì Ci prendiamo L'emblema del trionfo E poi andiamo A fare L'ultimo Dragone Elementale Sì Saltiamo Non mi interessa Emblema del trionfo Eccoci qua Perfetto Ora ragazzi Andiamo a fare L'ultimo drago Che è Oldra E nulla Direi che ci vediamo Direttamente Nel luogo Di spawn A questo punto Eccoci qua ragazzi È appena spawnato Anche Oldra Mi trovo qui Sulle montagne Di Oldin In questo preciso punto Sono le due passate Ma Spawna In realtà Anche alle quattro In una posizione A volte anche migliore Forse sarebbe meglio Aspettare più le Tre e mezza Quattro Che le due Io comunque sono qua Da un pochino Ad aspettare Lì sotto c'è Il falò Che ho utilizzato Per Ecco rimanere qui Ora Quello che dovete fare È utilizzare La Il turbine di Revali Continuo a confonderlo Con la furia di Urbosa Avvicinarvi a lui E stare molto attenti A dove lo colpite Perché Può capitare A volte Ecco lui sputerà fiamme Non Non andategli addosso Ok È l'ultima cosa Che farete Se gli andate addosso Ecco Non volevo lanciargli Questa tipologia Di freccia Volevo Tirargli Quest'altra Ok Lo colpite Aspettiamo Di vedere dove va La squama State attenti Perché a volte Vi stavo dicendo Può finire Anche nel burrone Nel Si può dire burrone Sì è una parola italiana Non lo so Io ho sempre detto burrone Però potrebbe essere Che magari è una parola Utilizzata Dove vivo io Vabbè Può finire di sotto Ok Qua ci sono questi spiritelli Che possiamo fare fuori Con la nostra lancia Di ghiaccio E in teoria Abbiamo fatto Sapete che cosa Lo colpiamo magari Un altro paio di volte Se posso Ah no Aspettate Lui vi droppa Una cosa al giorno Quindi effettivamente Anche se lo colpite Tipo tutto di fila Lui se ne va E non vi può Più droppare Nient'altro In teoria Qui da qualche parte Dovrebbe esserci Un linel Eccolo lì Linel bianco Voglio fotografarlo Solo per il gusto Di farlo E dopodiché Ci teletrasporteremo Ehm Qui Dov'è la fonte Della forza Dovrebbe essere Qui sopra Esatto Ci teletrasportiamo Qua Aspettate che voglio Un attimino andare A dargli fastidio A questo Linel bianco Che È Molto pericoloso Guardami Guardami Linel Sì sono proprio qui Mi hai visto? Guarda In tutta la mia interezza Ti faccio una bella fotografia Me la salvo nel compendio E poi mi tiro Aspettate Ho sbagliato Bottone Mi ha colpito anche il tizio Però non è un problema Ora dobbiamo Andare Qui Salvato in extremis Perché Tra l'altro Lì c'era anche una lucertola Perché se non state attenti E lui vi prende con una freccia Siete one shotati Ok È molto forte Come Linel Questo sacrario Io non l'ho mai fatto No È un sacrario Che ho completamente saltato A questo punto Oh Qui piove Qui piove Ci sono i fulmini Allora dobbiamo fare una bella cosa Dobbiamo riposare fino al mattino Perché non voglio uscire con la pioggia Eccoci qua Ora No Maledetto Possiamo in qualche modo Tipo non farci colpire In teoria La bacchetta Non dovrebbe Farci colpire E poi possiamo Indossare anche Questa armatura Questa armatura qua E dovremmo essere Liberi dai fulmini Ora Signor Litt Mi servirebbe Il mio cavallo Fiona Che sono Tipo dieci episodi Che non uso È strano È strano eh Cioè è veramente tanto Che non usiamo Fiona Ora Dobbiamo Sì Dobbiamo andare Alla fonte della forza Non so se Mi prendi in giro Ok Ho dormito Ora non piove più C'è il mio cavallo Che sta morendo Quindi lo accarezziamo E andiamo Alla fonte della forza Che dovrebbe essere Di Qua No No Fiona 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 Ok È un po' che non lo utilizzo Ragazzi Quindi mi sono un attimino Dimenticato Ci siamo già stati Noi alla fonte della forza In passato Però non avevamo capito Effettivamente Come Come funzionasse È questa qua sotto A forma di teschio Ecco Piccola precisazione Non farò il sacrario Di questa fonte Perché Non è una benedizione Ma è una prova di forza E Essendo una prova di forza È È Prova di forza avanzata Molto difficile Di conseguenza Ecco Non voglio Perdere troppo tempo A star dietro A questa missione Magari me la faccio Off camera Cuoranello Ottimo Ah effettivamente Era qua sotto Vabbè però Abbiamo fatto bene Ad avvicinarci Così Almeno Ci saltiamo Tutti questi Simpaticoni Ci buttiamo Ci buttiamo qua sotto Avevo finito la stamina Fantastico Però possiamo buttarci Lo stesso Ci mettiamo qua E Droppiamo Riordiniamo un attimino Gli oggetti Dove sono le squame Questa qua No Questa qua La via è aperta Ora puoi procedere Eccoci qua E ora in teoria Abbiamo finito Tutte le quest Dei draghi Dei draghi elementali Lo sblocco Non lo faccio Perché ve l'ho detto È una prova di forza avanzata Non lo voglio Non lo voglio fare In questo Cioè non lo voglio fare Lo voglio fare off camera Ok Perché credo che Urlerò parecchio Questo video ragazzi Direi che può finire Anche qua Non so effettivamente Quanto sia venuto lungo Perché dovevo fare Parecchi tagli Io vi ringrazio Per averlo visto In descrizione trovate Tutti i link Instagram Telegram Instant gaming Tutto quello che volete Commentate Condividete questo video Con tutti i vostri amici Lasciate mi piace E nulla ragazzi Noi ci vediamo In un prossimo video Buona giornata E ciao a tutti Ciao a tutti